Cosa prepariamo oggi mamma? Allora, fave e finocchi Questa è una ricetta rivisitata Perché solitamente si fanno carciofi, fave, finocchi e piselli E si chiama frittedda in siciliano La vedrete prossimamente, sicuramente sul canale Intanto però facciamo questa versione più semplice Infatti, mia madre sta tritando la cipolla Sempre con il suo metodo Quanto è una cipolla? Mezza cipolla Bianca preferibilmente, che è più leggera Come tipo di cipolla Olio Extravergine d'olive Peperoncino in polvere Quanto basta Sì, vabbè Noi siamo quelli del piccante Mia madre ha fatto già questa operazione di decorticare le fave Ha tolto la buccia Quindi le hai bollite prima? No, assolutamente no Cosa hai fatto? Non ho fatto nulla Le ho solo lavate e messe all'interno del sacchetto Già pronto No, però come gliel'hai tolta la buccia? Le ho fatto con le mani Ah, non le hai bollite? Assolutamente no Si toglie con le mani La prima parte dal baccello E diventa così verde Toglila dal sacchetto Esatto Così le vediamo Le togliamo E sono addirittura simili ai muselli E poi sono anche più facili da digerire così senza la buccia Anche se, ripeto, sono state congelate Lavate precedentemente quando io già le ho Però è giusto che queste cose si lavano più volte Si lavino più volte Dopo aver fatto soffriggere la cipolla Possiamo mettere Io amo le fave Amo Un ottimo le fave Mangerei Le mangerei sempre Sì Altrettanto Anche se io sono più vana Però alla fine Essendo i miei genitori siciliani Appunto il nonno Il nonno l'amava Le fave Come a me Infatti me l'ha inculcato anche a me Si lavano I finocchi Precedentemente puliti Che danno quel tocco in più Mamma, lei vuoi quella spugna che è bellissima da guazzare? Che è questo? Direi Por favor Per plesè Ecco Quando sono arrivati non erano così Io ho preso l'interno di questo genere di verdura Capito? Sennò altrimenti sarebbero un po' più duri Come tipo di Ha preso le parti più tenere Esatto E come si fa a pulire le mamma? Non facciamo io Un'altra volta Ecco, noi tagliamo anche queste zone qui Che sono un po' Più dure In più anche Che di un mozzo Praticamente Di finocchi Ne rimane niente ogni volta Con meno Con meno Ma poi fa un profumo Il finocchio Che è qualcosa di Spettacolare Facciamo Stogliere un po' Dall'acqua E tagliamo piccolo In modo piccolo Ci Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì come ricetta. Mettiamo un po' d'acqua, aggiungiamo e li facciamo andare per un bel po' di pezzo. Quando mancherà l'acqua ancora, che ci saranno cruscitate, si deve ancora mettere. Perché la fava deve essere morbidissima, quasi una crema. Ecco, che volendo, un altro trucco se tu vuoi proprio rendere la cosa cremosa, puoi frullarne una parte. Però ti assicuro, già così viene, già così viene. Come ti ho detto io, perché è già senza buccia la fava. E' nuda. Quindi così. Vedremo alla fine poi. Poi il piatto lo presentiamo e vediamo com'è. Ciao! 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 Grazie a tutti.